Aiutare i più giovani ad avvicinarsi allo sci con un contributo economico che possa coprire i costi. L'amministrazione comunale del capoluogo ha lanciato un progetto assieme allo Sci Club Città di Pavia, rivolto a bambini e ragazzi, tra i 4 e i 14 anni. L'associazione ha organizzato un corso da 12 ore a Salice e Dulzio, in Val di Susa, suddiviso in 4 domeniche a partire dal 14 gennaio. Il mezza barba stanzierà 1000 euro per sostenere le spese di iscrizione. Facciamo a Salice e Dulzio 4 domeniche dal 14 gennaio, quindi 14 gennaio, 21 gennaio, 28 gennaio e 4 febbraio 12 ore di lezione di scuola di sci con maestri della Via Lattea aperti al pubblico. Questo è il nostro programma per l'inizio dell'anno 2024. Abbiamo fatto l'anno scorso, sia l'anno scorso e lo ripetiamo quest'anno, abbiamo versato appunto questo contributo per consentire ai ragazzi di avvicinarsi agli sport invernali, avvicinarsi ad uno sport a contatto con la natura. Quest'anno i corsi verranno fatti 12 ore di lezione sulla Via Lattea, peraltro una delle piste più belle d'Italia, più conosciute d'Italia. L'assessorato allo sport, io in particolare sono l'amministrazione comunale, l'assessorato allo sport in particolare, siamo particolarmente lieti e felici di dare una mano tutte le volte che c'è da aiutare i giovani, di avviare i giovani allo sport.